Ciao, allora, Jenny stasera ha la cena che vi avevo già detto qualche giorno fa, quindi l'aiuterò a prepararsi. Iniziamo dai capelli, ok? Direi di sì. Ok. Devi dare una bella spazzolata. Diamo una bella spazzolata. Perché la crema non è messa, solo che sono adottati. No, il cino non ha tanti nodi. Comunque, secondo me andrebbero spuntati. Assolutamente no. No? No. Spiega perché hai una guancia rossa. Ah sì, perché mi ha molto una zanzana. Non lo so, boh. Allora, Jenny, sono stata veloce, sono già pettinati, liscissimi. Tieni. Per il momento. A vedere la spazzola delle principette. Cioè, un tocco di stile, un tocco di stile. Aspettate che prendo il fono. Ma non è. Comunque, ho un DM. Ma si dice fono, fono. E' boh. Fono, fono, boh. Cioè, come si chiama? Vabbè. Non lo so. Detta, chiamala come l'hai sempre chiamata. Io lo chiamo fono. Vero mi hanno detto che non si dice così. E come si dice? No, non lo so. Allora, chissà come si chiama. Asciuga i capelli. Vabbè. Comunque, iniziamo ad asciugarli. Oh, l'orecchino. Che ho fatto? Comunque, mi dame forse pure gli orecchini. Forse. Vabbè, iniziamo ad asciugarli. Ma sicuramente non si senti niente. E quindi, ci vediamo tra poco. In quella. Sì. Abbiamo appena finito di asciugarli capelli. E la riga l'hai fatta? No. E vado a fare. Nel tempo la piastra si riscala. Perché dovete sapere che Gianni non vuole fatta la riga da me. Che dice che se no la faccio una mini Natasha. Allora, non so se è dritta. Secondo te? Più o meno. Aspetta, mi devo rendere cotta. Comunque, questa è la piastra che utilizziamo per fare sia capelli lisci che boccoli. Ehm, è un po' storta. Gianni. È storta. Dai, che bui. Ci metti tanto? No. Ok, ce l'ho riuscita. Ok. Anche se sono già lisci. Cioè, solo per abbassare un po' le punte. Che può? Dovete sapere che Gianni aveva i capelli a boccoli. Sì, da piccola sì. Cioè, aveva proprio i boccoli alle punte. Poi non ho capito perché... Comunque fa caldo oggi. Adesso non hai più i boccoli mai. Cioè, i capelli lisci. Perché quando ero piccola lo lasciati crescere. Tu ti dovresti ricordare più di me. Eh sì, lo so che le hai lasciati crescere. E allora poi tipo, il boccolo non ha più retto. Non lo so, penso. E poi adesso io non riesco a farli neanche con la piastra i boccoli. Cioè, non gli reggono. Sono liscio. Aspetta. Sì, sì. No, secondo me sono troppo lunghi. Per questo non ho molti tonno. Non lo so. Non, ma i miei capelli non si toccano. Sono così tanto carini, belli. Ma infatti non ho detto che non sono belli. Guardi tu che sono corti. Non sono corti miei. E direi quello che hai fatto prima. Che ho fatto? Con i tuoi capelli. Eh. Che hai fatto? E dirlo tu. Non lo ricordi. Allora, lo dico io. Ti tagli da le punte. E poi se la mente che ce le ho accorti. Perché ho le punte rovinate. Scusa. Che ho fatto di male. Grazie, se te le piace tutte le volte. Comunque non so se si vede. Ho tagliato solo le punte. Ma ho fatto niente di che. Penso che vado a... Comunque... Arrivati a finire a perdere. Guarda, guarda davanti, Nati. Guarda come sono lì. Questo ci fu davanti se lo sei dimenticato. Come far perdere sempre a Nati. Allora, me l'avevi nascosto. Sì, me l'avevi nascosto per qualche occasione. Quindi, visto che adesso, tra virgolette, la testa... Rossetto non ne metti? Eh, il rossetto qua è il problema. Aspettate che faccio vedere i rossetti. Allora. Mi mancano gli illuminanti. Perché è l'unica cosa che ho... Rosso no, Jenny. No, no, non lo voglio provare. Allora, questo? Fallo vedere. Ma è brutto. Ve lo faccio vedere aperto. Questo fucsian, Jenny? No. No? Aspetta. Questo? Eccolo che dice l'altro. Quest'altro? No. No. E allora quale? Proviamo. Vediamo questi qua. Questi sono di mamma? No, non lo dico. No, no, questo è rotto. No, questo è rotto. Non ve lo faccio vedere. Eh... Eh... Questo no. Questo? Non mi piace. Questo è bello, Jenny. E non si abbina. Aspetta, come sei vestito? Tu non mi ricordo. No, 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 no. Hai ragione. No, 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 no. No, no, la provoca sulla mano. E fallo vedere. E però si deve asciugare. Vabbè, vuoi questo? Adesso vi facciamo vedere quale sceglie. Allora, questo è l'outfit di Jenny. Ve l'avevamo già fatto vedere nell'altro video. Sì, quella è la maglietta nera e questa è la donna rossa risesata da un lato. e poi Jenny c'è un piccolo problemino per quanto riguarda le scarpe perché Jenny vi aveva detto che avrebbe messo quelle scarpe brillantinabili pensando che stessero bene invece no infatti stanno malissime sono le scarpe di Nubbing esattamente sono le mie scarpe e io non ero d'accordo però io le utilizzo non è vero queste sono le scarpe che utilizzo di più perché sono dei tacchi belli ma comodi perché non è un tacco a spino il tacco si è più grosso quindi è più comodo e io non ero d'accordo però io le ho rubati poi Jenny ha scelto gli orecchini la collana e il bracciale allora falli vedere gli orecchini sono quelli che ho sempre utilizzato anche gli stessi a cerchio poi c'è la collana e il bracciale abbinato è l'albero della vita sì anche se non so se mettere il bracciale te li faccio vedere meglio aspetta se si vedono solo le tononi allora ci sono incastrati sì ecco qua piccolo vediamo come stanno finalmente Jenny è pronta alla fine non ha messo nessun rossetto perché? non lo so devo decidere se lo trovo lo metto non niente comunque i tacchi avevi ragione stanno bene questi ho messo questi e vabbè la collana rossa la maglietta e la borsa la borsa bella è abbinata dove l'abbiamo presa che non mi ricordo ma non è troppo piccolina? è l'effetto il mio telefono dovevo mettere vabbè fai vedere i capelli ok perfetti sei pronta oh c'è che lo senti? vabbè portatevi magari li metterai è un altro rossa tutti e due rossi perfetta ditemi mi raccomando scrivete nei commenti se vi piace questo outfit che foto darete non mi interessa no non è brutto invece eh vabbè